Nella mattina di mercoledì 6 febbraio, presso l'Ipsar Petronio di Pozzuoli, è stato siglato il progetto La Cucina Voce del Territorio, promosso dal gruppo consigliare Pozzuoli Bene Comune. Dai suoi tre rappresentanti, Vincenzo Bifulco, Antonio Di Bonito e Nicola della Corte, gli diede un'opportunità per gli studenti di migliorare la conoscenza dello scenario in cui operano, con lo scopo di aiutarli a maturare scelte consapevoli e di incoraggiarli anche a valutare nuovi percorsi formativi. Un modo per valorizzarne le competenze, creando iniziative virtuose. Che individua come strumento quello di una borsa di studio per l'avvicinamento al mondo lavorativo. Si creerà una borsa di studio affinché con il supporto e il patrocino dello chef stellato Paolo Barrare di Marenna, di Feo di San Gregorio, si ospiterà, si darà l'opportunità di uno stage presso la sua struttura dopo la scuola, quindi a fine anno scolastico, di un mese continuativo retribuito al senso vitto alloggio spesato dalla borsa di studio. In più proprio ieri abbiamo sancito, grazie anche ai miei due colleghi del Pozzuoli Benecomune, Bifulche e Di Bonito, di dare ancora più un incentivo. Cioè a fine percorso formativo, perché comunque è una sorta non di borsa di studio economica e basta, ma anche, soprattutto, un percorso esperienziale formativo. Alla fine di questo mese il ragazzo avrà diritto, diciamo, si guadagnerà anche una sorta di pocket money, un salvadorario della somma di 500 euro. I ragazzi beneficiari verranno selezionati attraverso una gara culinaria, simile a quelle dei più famosi programmi televisivi italiani e stranieri del settore. E per il sostegno economico i consiglieri del gruppo Pozzuoli Benecomune auspicano un coinvolgimento bipartisan degli esponenti del civico consesso. Già ho convolto i miei due colleghi della lista civica Pozzuoli Benecomune che subito hanno aderito. L'iniziativa è aperta a tutti i consiglieri comunali che vogliono sicuramente aggregarsi. Quindi da qui al giorno che si farà poi la gara del Masterchef, tutti i consiglieri potranno aderire. Un'occasione per mettere in pratica le competenze acquisite dai giovani. E pertanto è vivo l'apprezzamento verso il progetto manifestato dal dirigente scolastico dell'Istituto, il professor Luigi Arionte. Sì, forse per la prima volta alcuni membri dell'amministrazione comunale, quindi in questo caso dei consiglieri, hanno proposto all'Ipsar Petronio una sinergia forte, significativa, che darà un ampio sviluppo anche in futuro per l'occupazione giovanile. Anche le modalità di selezione degli studenti per accedere alla borsa di studio sono nell'ottica della naturale competizione che si riscontra nel mondo lavorativo. Ma è una sana competizione. Ma d'altra parte i nostri ragazzi sono già abituati, infatti entrano in competizione per i poni all'estero e altre attività che noi svolgiamo all'interno della scuola. Ma d'altra parte il primo insegnamento. Oggi la vita è difficilissima, ogni giovane diplomato, laureato che sia, deve lottare per arrivare ad una meta.